La Sardegna si riconferma capitale della vela, ha i posti più belli del Mediterraneo, le condizioni migliori, quindi è giusto che di volta in volta o Cagliari o Alghero o la Maddalena e Olbia sia individuate come location d'eccezione. Questo fa bene, fa bene all'economia, questo fa bene agli atleti, questo fa bene ai comuni e ci dà una risonanza incredibile, quindi qualsiasi cosa venga fatta in tal senso va spinta, va premiata e sponsorizzata. L'unica cosa a cui non bisogna far riferimento è che ogni manifestazione ha dei costi diversi in proporzione all'immagine che garantisce e ai costi reali che effettivamente si hanno, quindi io sono contento che la Regione Sardegna abbia avuto questa sensibilità nei confronti della Coppa America e del circuito Louis Vuitton, non potrà che portarne grado di beneficio e secondo me ne porterà molto ma molto di più di quanto ne avrebbe portato il G8, perché mentre il G8, per come la vedo io, è una cosa negativa, nel senso pieno di guardia del corpo, pieno di polizia, il posto, ci sentiamo fra un po' pieno di polizia, pieno di zone inaccessibili, questa è il vela che consentirà a tutti i cittadini di andare quando vogliono, dove vogliono, passeggiare nel porto e senza quel tipo di pressione e repressione, quindi è un messaggio molto più positivo rispetto al G8. È chiaro che la Regione dovrà dimostrare sensibilità anche ad altre categorie, dopo ci sono delle manifestazioni e delle discipline che non hanno avuto fino ad oggi la capacità di imporsi all'interno delle istituzioni come si sono imposte discipline quali la pallacanestro, pallavolo, tennis, calcio. Secondo me siamo però sulla buona strada. Io credo che Ugo sia la persona giusta per poter riconoscere nella vela un grande valore aggiunto e parallelamente a quello che sta succedendo per la Coppa America e Louis Vuitton faremo degli sforzi importanti perché i giovani abbiano le risorse necessarie per poter andare in giro per il mondo a dimostrare quello che valgono. Benissimo, ascolta ma un posto privilegiato a Maddalena per essere in Sardinia ci sarà. Ci mancherebbe. Dimmi quello che serve un minuto dopo e ci mancherebbe. Se in Sardinia è il sangue della vela, se manca quello il corpo non funziona.